Benvenuti ragazzi a questo nuovo video di FAMGAMERS Oggi vedremo da questo video di Tatona Live su Twitch L'acquisto, l'allestimento e il rifornimento dell'Hungar Allora ragazzi vediamo quest'Hungar Come funziona Guarda che l'hai preso qua l'Hungar Cosaerei? Perché l'hai preso qua l'Hungar? Ho preso questo qua che con Amazon Prime E poi mi dovrebbero rimborsare i soldi Sì, mio fratello Sono morti Morti In ogni nascimento da te E tu li si unirai Ho una ufficienza Da Russia Un ufficienza russo 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 Buon fattore Un ufficienza russo Allestimento dell'hangra ragazzi Io sto scappando dalla polizia Siamo scoperto! Siamo scoperto! dove è quella meccanica? Oh, questa è l'unica razza io lascio iniziare perché pensavo fosse lui Oh, chi è questo? Ehi, boss! Ehi, boss! Ehi, boss, sai cosa ho? Sì, sto facendo la allestimento Guarda, mi dà la allestimento a fare Non lui Non lui E' il tuo nuovo boss Beh, un co-boss Questo è Charlie Mi ha fatto sfaudare dentro la morte Innocentemente E' stato il giudice Sì, Charlie, vai a lavorare Ignora i corpi Quindi, comunque Il negozio è buono Il negozio è buono Va bene, boss, tranquillo D'una parte, abbiamo più ordini Che possiamo capire E' l'altra E' sorpreso Se non siamo morti Nelle prossime 48 ore Vieni, vorrei darevi un tour E poi potrei Spenderemo con questa messa mentre ti puoi lavorare E' davvero bello Ah, si croco Ok, ora Adesso Questo è l'office Ah, dove ho messo la macchina Vi vediamo quanto dovrà questa allestimento Ma ovviamente Dopo questo video Lo metto su Youtube Se non lo metto E' la macchina E' la loro E' la loro I'vonore E' la loro E' la loro Ok, ok Ok, vabbè Lontanmo Ok, ora E' lontanmo Ora, qui E' la cosa E' la cosa E' la cosa Che ne è E' la cosa Che E' la città E' la quale ma funzionerà praticamente niente. Allora lì c'è dove puoi restare ogni aeroporto che... io mi chiedo, tu non hai lasciato l'aria sul basso. Abbiamo abbastanza di spazio. Credo che possiamo prendere tutti gli aeroporti con noi. Io sto facendo l'allestimento dei ragazzi per l'hangar. Allora lì c'è dove puoi mettere un lavoro di aeroporto, se vogliamo. E' la tua chiamata, ovviamente. Charlie ovviamente sarebbe grato per il lavoro. Certo, Charlie? No, hey, hey. È un ingegnere brillante. È un alieno e un master. Solo, stranamente, è indirizzato. Vieni in grado. Dommi una mano con questi bambini. Oh, io vorrei prendere le macchine. Diventare allo santo un custom nella mappa e entrare dentro il garage. Siamo molto felici che sei qui. Tu sei il migliore amico che ho avuto. E io voglio dire questo. Origin Motorsport, se no. Lo Santum Custom. No Santum Custom. No Santum Custom. Ok, infatti, dobbiamo andare qua all'ufficio. Facciamo l'allestimento e poi facciamo un po' di gare malate. Allora... 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 ... Minuto la tuaata attim도 như è passato. きっと Manuelaltro. Non ho avuto scambi ROI 달�rò. All dogs eccli. newi come! Allora... ... один un computer smartphone mi piace. Onore dell'intragment and bring the plane to the hangar. Once there is some stock in the system, the app will go online. Cache, non solo questi dovrebbero uccidere. Easy. Ottimo. Uh, che figo sto coso, ho preso la torre. Aiuto a fattore il fogo. Ops, ho ammazzato qua lì e correva solo a spiaggia. Direi ragazzi, il parcheggio perfetto. GG. GG. Senza la polizia. Gli avevamo la bug? E ora vi invito qua allo stabilimento e facciamo una missione qua all'allestimento, all'hangar. Che dirà come funzionerà forse con le scorte, la Sony. Gli avevamo un secondo che mi vengo privo, io mi fio di... No, vabbè, lascio dopo questi cazzi, hanno proprio le cose che ho un po' di soldi. Ma solo 80 mila. Ti invita, ci vanno di sotto. Sì, sto andando al computer. Aspetta che... Vi ho invitato. Siete i miei prospect, giusto? Sì. Sto arrivando? È pure io. Ok. Ditemi quando siete dentro. Ok. Ora è il mio. Siete dentro tutti e due, ragazzi. Siete dentro. Ray, siete entrato pure tu. Ok, mi sta spiegando come funziona l'interfaccia e ora andiamo a fare un po' di scorte, vediamolo. Non lo posso più aereo, eh? Non pensi. Ma non lo prendo. Non lo prendo. Allora, vorrei un forato di lavoranti. Rifornisci scorte. Cosa riforniamo? Droga, materiali chimici, medicinali, animali, contraffatti, tabacco e alcol, JL Gemma, GPR. Droga. 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 Molto droga. Siamo con un po' artisti sicuri, un po' artisti d'arte. Vabbè, decidiamo droga. Droga. Si rifornisce droga, ragazzi. Mi dice, ci sono tre ore qua. Mi dice, ci sono tre ore qua. Mi dice, ci sono tre ore qua. No, non ho visto cosa è successo. No, non ho visto cosa è successo. Dimitare con l'Hydra che è venuto addosso. Dobbiamo andare a distruggere quelle balsi. A balsi. Come si vola qua? L3. Figo. Uuuuh. Questa cosa è potente. Figo. Figo. Ragazzi, è bellissimo. Ma è difficile da guidare, non è facile. Eh, puoi spegnere il ragazzo quando vuoi, se ti confondi. E con la X mitragli. Ok. La R2 non serve un cazzo. No. Solo per accelerare. Perché non mi fanno fare più il ragazzo dietro? Si è scaricato. Ah, ok. Si ricarica pure il ragazzo. Non mi fanno. Pensavo di avere tipo il ragazzo infinito. Ah, non ha sparato a Muzzo, ragazzi. Si, abbiamo solo... ... la medialità di vicenda. Non provare le tasti a casa cos'è il TQP all'aereo. Eh ragazzi, il suo bot, ragazzi. Stavo con l'offresso. Come stavo con l'offresso? Che fai. Ehm... Allora come mi vado a schiantare io qua. No, no, non ti schiantare. Dobbiamo distruggere qua. Questa base. Questa base. E quando ci fico io. Eppure io mi sa che ci fisco male. Cazzo. Ma volare questo coso fa cagare. Cioè, almeno per me. Sotto. Sono finito anno in campagna. Mo' scendo e distruggo tutti normalmente, no. Non è facile proprio da guidare, eh. Ma non ce l'ha il razzo. No. Cioè, ma potremmo avere bombe, penso. Ripeto, cosa sono quei due zoltami datatrici? Potremmo essere stato una zoltami datatrice. Che cazzo è stato numero due. C'è uno con l'opresso che rompe le palle. Quando ti senti segnalato che ti fa il rumore che ti sta sparando. Colpo di L3 e ti liberi. Invece. Invece. Come le sganci le bombe? Ma esatto. Come a dire? Puoi sganciare le bombe da questa angolazione? No, da quest'altra no. No. Sì, però non ho capito in che tasto, forse con R3 No, con R3 sono sceso Eh, ma ragazzi, ma ragazzi, guardate Stavo capito Perché si è fermato il mio aereo? Come si è scasso in questo bordo Ok, niente, almeno l'ho fatto scendere, facciamo così Prendiamo l'oppresso Prima di tutto distruggiamo l'altro oppresso E poi distruggiamo quello che c'è, distruggiamo Uh, ma qua mi sparano tutti Slancia razzi No, 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 no Ragazzi, ho un fattone con questi cazzi aereo Sono io, sono io che ho lanciarazzi Ok, ho ucciso un ruolo con i lanciarazzi Sì, ma io ce l'ho soprattutto con quello con l'oppresso, se n'è andato No, sono questi qua che io dovremmo rubere le scosse con i lanciarazzi Va bene, vediamo se in quell'oppresso riesco a fermare un paio Non ci sono altri No, non, 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 no No, non, 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 non Prendi la droga, a me mi ha dato prendi la droga Ora a me non so dove sta però Eh cosa sta qua raga Ah sta la droga non è possibile No proprio che è il gioco in gioco raga No io sto andando a prenderla con l'ho preso Mi fanculo ieri Ah dobbiamo prendere gli elicotteri Io ho distrutto il mio No no qua c'è degli elicotteri dove c'è scritto prendi la droga Venite 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 qua Dove c'è il segnale verde Ci sono tre elicotteri uno l'ho già preso Che missione strana Però figa da un lato dai Ora siamo visibili raga Sì Viene a correre Se l'elicottero viene distrutto la droga viene paracolata da terra va bene Oh credo di aver fatto quasi un parcheggio perfetto Ok Qua qua diventerà sulle metà Ah ma avete preso un elicottero solo? È uno vero Ah uno solo mi è rimasto Ok carico consegnato tre su tre Ah ok uno ne aveva due Allora GG ragazzi Mi hanno consegnato sto carico Ottimo Allora funziona un po' come tutti gli altri stabilimenti eccetera L'angar Quanto pari Devi semplicemente rifornire le scorte Poi produrre dei soldi Qualcosa Vi ha pagati? No Come no Vabbè Ogni scorta vi paga Non ci ho pagati Ma a meno Però non farei Niente Ho risparmiato Allora Ora andiamo a fare le gare ragazzi Sì però famose prima le moto A meno si è scallata Non una la vinco Poi non è una Ok Ok ci sei ancora qui Vabbè ragazzi Il funzionamento qui è molto semplice Semplicemente possiamo decidere Che tipo di Rifornimento avere Per avere tutto il livello della merce alto Non siamo bravo ragazzi Se l'avete la E poi possiamo Possiamo vendere Beh Se l'avete la tezzera Aspetta aspetta che sto finendo di vedere qua questa casa Ma il vero Che sta a guardare il muro No no sto Se avete la tezzera O il trail dell'hangar ragazzi Un attimo Silenzio Se non Se non Siete in court Jury Ho problemi mentali Sono un fantasist Sono riuscito per presidente Poi c'è un paracadone Se non Poi c'è un paracadone Tutti i link in descrizione Bella a tutti Alla prossima ragazzi Alla prossima ragazzi